Il lavoro del telescopio spaziale Hubble mostra a Palazzo Loredana Venezia la sua posizione al di sopra dell'atmosfera permette di osservare l'universo a una lunghezza d'onda altrimenti non accessibile. Simonetta Simoni. Il telescopio spaziale Hubble, progettato negli anni 70, aveva obiettivi estremamente ambiziosi. Doveva capire le leggi dell'espansione dell'universo, doveva osservare e studiare le galassie più lontane per scoprire la presenza di altri pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Il modellino del telescopio Hubble e tutto il suo lavoro sono a Venezia, a Palazzo Loredana. Hubble è una collaborazione tra la NASA e l'ESA. Abbiamo portato Hubble a Venezia, in questo palazzo splendido. Speriamo che piaccia questa mostra che illustra le immagini splendide ottenute dal telescopio in 20 anni di vita e così avvicina l'universo un po' a tutti noi. In questa bella mostra si parla ovviamente di stelle, della loro nascita, della loro vita e della loro morte. Un precesso spettacolare è quello della morte, quando la stella esplode e diventa una nebulosa planetaria. I resti dell'esplosione rimangono visibili per secoli e noi possiamo vedere con l'aiuto di Hubble le nebulose planetarie Elica, Occhio di Gatto, Farfalla ed Eschimese. La mostra a Palazzo Loredana chiude il 15 ottobre.